Alle nostre spalle c'è il Paladin Martin dove l'8 e il 9 gennaio ci saranno gli screening per gli studenti di Montesilvano. Sindaco, sulla piattaforma in poche ore avete ricevuto 1200 prenotazioni, un record. Sì, questa mattina alle 10 abbiamo aperto, come comunicato nella giornata di ieri, una piattaforma alla quale gli studenti possono prenotarsi e nel giro di un'ora sono stati tantissimi i prenotati. Questo è un buon segno perché significa che nonostante il tampone non sia obbligatorio tutti hanno compreso quanto in questo periodo con i contagi che purtroppo ci sono, è importante uno screening per valutare le positività e quindi per evitare ulteriori contagi. Voi come amministrazione comunale ovviamente sperate in una adesione massiccia di ragazzi? Sicuramente, come dicevo è molto importante in qualche modo la prevenzione e quindi da questo punto di vista speriamo che se non tutti e 4.500 i ragazzi, insomma gli studenti del territorio di Montesilvano la stragrande maggioranza in qualche modo decida di tamponarsi. Se il buongiorno si vede al mattino diciamo che questa intenzione negli animi dei genitori c'è e quindi siamo ben lieti in qualche modo di accogliere i ragazzi presso questa struttura e ci stiamo organizzando con il dirigente Marco Scorrano e con l'assessore della Repubblica di Stazione Palociglia. Abbiamo messo in campo tutte le azioni volte ad assicurare al meglio questo servizio. Ovviamente come già fatto ieri ringrazio ancora una volta le associazioni di volontariato dell'ANC, della Protezione Civile e della Croce Rossa che hanno dato la loro adesione e daranno il loro contributo. Sindaco, il governo ha detto che il 10 gennaio riapriranno le scuole. Lei da amministratore cosa pensa? È d'accordo? Oppure secondo lei bisognava aspettare ancora qualche giorno? Io sono d'accordo con la decisione del governo. Io durante i precedenti lockdown, quando si erano presi decisioni in merito alla chiusura delle scuole avevo sottolineato quanto per i ragazzi sia fondamentale una didattica non a distanza, una didattica in presenza. per tanti motivi ed è giusto sicuramente portare avanti iniziative come questo screening o osservare tutte le prescrizioni del caso, ma al tempo stesso secondo me è una decisione giusta quella di dare la possibilità ai ragazzi di vivere una socializzazione scolastica, soprattutto una didattica che oramai da anni vive delle difficoltà. Quindi io sono assolutamente d'accordo con la riapertura.